Faccio questo lavoro da 38 anni, sempre qua in Diadola. Le scarpe riflettono una persona come un modo per parlare agli altri della propria personalità. Poi io vengo da una famiglia, mia mamma cuciva, dopo il primo lavoro era un calzolaio, ma un calzolaio bravo. Sarà una scarpa uguale a un'altra, ognuna è diversa, perché sono fatte a mano, fatte con cura, fatte con la professionalità degli artigiani. Vedendolo in televisione penso, guarda, quelle scarpe le ho fatte io, è una bella soddisfazione. Questo lavoro qua l'ho cominciato nel 1981. Spero di poter lasciare il mio know-how ai ragazzi giovani. Uno dei motivi che mi hanno incuriosito e che mi hanno attratto a lavorare qua è perché volevano un prodotto di alta qualità e fatto con professionalità. Neanche questa non è vista fora bene.